I server di alcuni fornitori che lavorano per il colosso europeo Airbus sono stati al centro di una serie di attacchi informatici negli ultimi mesi. Presi di mira nella fattispecie alcuni subappaltatori del produttore con l'obiettivo di sottrarre segreti industriali. Gli hacker hanno violato tra l'altro le difese informatiche di società del calibro di Rolls Royce che produce i motori degli aerei e della società di consulenza informatica transalpina Expleo. Diverse fonti di sicurezza sospettano che queste operazioni di spionaggio industriale siano controllate dalla Cina.